Ci sono due date cerchiate in rosso negli uffici di Piazza Duomo a Treviso, domani tarda mattinata e martedì 18 giugno. Nella prima è fissata la riunione del Consiglio di Amministrazione della Benetton, la seconda invece l'Assemblea dei Soci e tutte e due con un unico obiettivo, salvare e rilanciare uno dei marchi storici dell'abbigliamento italiano. Domani il primo passo che suona molto come resa dei conti tra il presidente Luciano Benetton e l'amministratore delegato Massimo Renon, con il primo che ha annunciato le sue dimissioni e l'uscita dalla società e il secondo che subito dopo è stato sfiduciato dalla Cassaforte di Famiglia e azionista di maggioranza edizione, che ha anche annunciato 260 milioni di euro per ripianare le perdite e rilanciare il marchio. In pratica il bilancio a fronte di un fattorato di poco più di un miliardo chiuderà con una perdita netta del valore di 230 milioni, di cui 113 proprio influssi di cassa, che poi sarebbero i famosi 100 milioni denunciati da Luciano Benetton nell'intervista accusatorio e pubblicata sabato dal Corriere della Sera. Ma in questa situazione ci sarebbero diversi spazi di manovra per cambiare le decisioni dell'uno ma anche quelle imposte all'altro. Secondo alcune fonti interne, infatti l'azione immediata di Alessandro Benetton con il comunicato all'Ansa di sabato sarebbe un sottointeso invito al padre Luciano di rimanere offrendogli sul piatto d'argento la testa dell'amministratore delegato venuto dalla montagna, ma anche il suo non l'uscita potrebbe non essere immediata contando sulle anze di peso proprio all'interno dei soci di edizione, ma anche le ragioni sulle scelte fatte tra l'altro basi dell'annunciata azione legale. Tutto questo mentre la perdita di quote di mercato se prolungata potrebbe essere fatale anche per un marchio storico come Benetton. La competizione ci sono tantissime realtà, tantissimi nuovi marchi, la concorrenza si fa sempre più aggressiva, però Benetton rimane un punto saldo nella nostra realtà territoriale come impresa e quindi io credo che qui soprattutto poi l'attenzione del Presidente sul capitale umano farà ripartire sicuramente.